Prosegue la controffensiva di Kiev. Liberati 6.000 metri quadrati di territorio, ha annunciato in un video il premier Zelensky spiegando che dopo Kharkiv gli ucraine avanzano anche a sud. La Russia tuttavia mantiene forze significative in Ucraina, detto il segretario di Stato americano Blinken, a seconda del quale è troppo presto per prevedere l'esito della controffensiva ucraina. Intanto oggi telefonata tra Zelensky e il premier Draghi, che ha confermato il continuo sostegno da parte del governo italiano alle autorità e alla popolazione ucraina in tutti gli ambiti.